Ripeto quello che ho già detto sulle ambizioni, penso che ci siamo trovati con il Presidente su questo. Io quando inizio una competizione, qualsiasi sia, la gioco per vincerla. Ovviamente il Presidente ha messo la barra molto alto, perché ci sono anche club sulla Champions League, per esempio, che hanno aspettato 15 anni con tanti soldi per vincerla, anche con uno dei migliori allenatori da 7 anni. Però io non sogno, quindi il sogno è vincere i trofei. Io sono qua per questa cosa, l'ha detto il Presidente, complimenti perché dopo 33 anni, dopo Maradona, vincere lo Scudetto è una bellissima cosa, però io penso che Napoli è una scuola che ogni anno deve giocare a Champions e essere una scuola molto importante in Italia come lo è stata la stagione scorsa. Beh, io l'ho già detto, secondo me lo Scudetto è stato un fatto iniziatico, mi auguro, che avevamo cercato di anticipare negli anni precedenti, finalmente ce l'abbiamo fatta, speriamo che non sia soltanto un caso, ma che sia l'inizio di un percorso che una città come Napoli e i tifosi del Napoli meritano. E quindi adesso il nostro obiettivo è di provare a ripeterci e poi tu sei arrivato in finale di Champions. Semifinale. Semifinale, vabbè, speriamo. Guarda, non voglio essere presuntoso, ti basterebbe arrivare in finale e poi uno se la giocherà, no? Che dici? Eh, io ci metterei la firma, no? E ho cominciato soprattutto a selezionare chi giocava con successo con il 4-3-3. Perché molti di quelli che vedevo avevano un 4-2-3-1 o addirittura avevano un 3-4-3 o avevano delle altre un 4-4-2. Allora, per me era fondamentale mantenere l'assetto dei calciatori che avevamo. Ho detto, noi non dobbiamo cambiare la squadra, quindi io devo trovare un allenatore che con il 4-3-3 ha fatto strike. E nella mia verifica, aver visto che Rudy a Roma era arrivato per due volte secondo, mi pare un anno noi siamo arrivati terzi dietro a te, se non sbaglio, e che addirittura il primo anno aveva iniziato con dieci vittorie consecutive, ho detto, ma questo signore fa il caso nostro. Poi ho visto addirittura che Collione aveva sfiorato qualcosa di importante in Champions League. Voi lo sapete quanto io ci tengo alla Champions League? No perché creda.